Ci sono? Novità, Barbara? Niente. È scomparso da due giorni. Sono preoccupata. Sai com'è da quando... Lo troverò. Lo spero proprio. Harley Quinn sta preparando una specie d'assedio. Che cosa trama? Trova Batman e vattene subito da lì. Ok? Tranquilla, Barbara. Sono io, Riccardi. Parli proprio come lui. Mi hai lasciato là morire. 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 Chi diavolo è questo incapace? È Robin! Aba Senti, idioti! Sto cercando di pensare! Ti fa male? Chiudi il becco! Sei fortunato a servirmi dopo! Barbara, ho trovato gli agenti scomparsi. Ce li ha Quinn. Tracce di Bruce? Negativo. Continuerà a cercare. Harley sta dicendo agli agenti che ha un piano per loro. Sono in salvo per ora. Fai attenzione. Andrà tutto bene. Promesso. Credi? Non è più lo stesso da quando... Non parla nemmeno di Taglia o di Joker. Lo aiuteremo quando lo troveremo. Non possiamo fare altro. La polizia arriverà presto. Morire di tutti. Davvero? Non credo proprio. Sei pazzo. Hai notizie di Harley? Ah, scommetto che piange ancora. Favrebbe meglio a scop... Non è più difficile. Lo so, ma abbiamo scelto forse Harley è impazzita dalla morte Era matta anche prima Già, beh, ora è peggio Cerca solo vendetta Abbiamo sentito Almeno Toh, ma guarda chi c'è Il piccolo aiutante di Batman alla riscosso Stop it Niente Ancora nulla Niente paura Se qualcuno si avvicina, lo punisco io Lo spero perché Ho perso contatto con gli altri E la cosa non mi piace Non è un problema Quando lo ucciderò, sarà tutto a posto E allora, magari Potrò rinunciarci Cosa? Niente No, ti prego Non hai capito Oh, sì, ti ho capito No, no Ma come ti dico E potrei perdonarti Ti iludi E te ne sentirai Oh, stop Non supportavi quel figlio Che c'è? Ehi 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 Dic C won't look at that Avanti, raccoglila Non esiste, quel coso è pericoloso, hai visto cosa ha fatto? È solo una cintura No, è la cintura di Batman Che ci fa Robin qui? Non reggerai a lui Scusa le dita nelle correzze Scusa le dita Tim, che cosa succede? L'hai trovato? Vediamo solo di coprire questo posto Non voglio che quella pazza esca da lì Intesi? Harley Quinn? Come hai indovinato Hanno teso un'imboscata ai nostri e li hanno portati verso l'acciaieria Non possiamo avvicinarci Me ne occupo io Davvero? Sai che ti dà la colpa, vero? Forse è una trappola Ripiegate ed evitate che qualcuno si faccia male Mi occuperò del resto Ora non ci credo che giochi del morto Non mi quadra Da come vada, quegli agenti sono morti Resto qui ancora a lungo Sicuro che congelo O peggio Ma quella pazzoide non poteva rendere quelle tenute un po' più calde Mai non posso ammazzare uno degli sbirri Oh, c'è questo? Grazie a tutti. 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 Ecco uno degli agenti. Per favore, non devi farlo. Certo che non dobbiamo. Ma perché no? E ora cos'hai da dire? Oh, qualcosa non va? Non hai nessuna speranza. Ti ha fatto male. Ti ha fatto male? Ti ha fatto male? Continua, barbaro. Non migli il culo. Morirai. Morirai. Stanotte stessa. ora ti aspetta. Ora ti aspetta. Ora ti peggio, vero? Non reggerai a lui. Non ti fa, baffa. Non pigli il culo. E ora ti aspetta. Cos'hai da... Che aspetti? Fammi scendere! Sei in salvo. Che piacere vederti. Cosa è successo? Dove sono gli altri? Era un'imboscata. Ci hanno trascinati fuori dall'acciaieria e pestati a sangue. Quei bastardi hanno trascinato fuori gli altri e mi hanno portato qui. Nasconditi. Tutto ok? Non vuoi parlare? Nessun problema. Aspetterò qui. Qui Vicky Vane, in diretta all'esterno di Arkham City. Ormai chiusa, ma di nuovo nel caos, dopo gli eventi che hanno scosso tutta Gotham. Pochi anni fa, ho visto Batman in persona parlare con il commissario Gordon. Di cosa discutevano? Si segnalano un numero di casi di agenti di polizia scompatti. E guardando le facciate dei malattie di Arkham, pare piuttosto evidente che ci sia la mano di Harley e Queen. Queen è stata trasferita fuori da Arkham City. la notte stessa in cui è morto il suo partner, Joker. Stando al rapporto psichiatrico inviato al municipio, Queen stava a sessuali parole, uscendo completamente di seno. Queen è vada dal centro di decisione temporanea tre giorni fa. Pare in condizioni attuali, si aggiusta alle mie... sono gli agenti. Harley li ha trasferiti. E dove? Lo sai dove. Oh, dentro al... Zitto, idiota. Cosa? Nessuno deve saperne nulla, ricordi? Cosa ci fa Batman qui? Cosa? Gli uomini di Queen parlavano degli agenti scomparsi Se sono stati qui, forse hanno lasciato degli indizi da seguire Quella radio era di un agente Forse qui attorno ci sono indizi su dove l'hanno portato Dovrò studiare la scena del primo Questo è il sangue di un agente Sempre qui, sempre a celarmi le chiappe Ho un gran brutto presentimento Grazie 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 Usa fuori per scappare, poi bastardo a tutto Cosa? Perdi qua, ora! Ho trovato qualcuno Sveglia, mi senti? Sveglia! Questa volta non passerai Venga vedete che si... Dov'è andato? Qualcuno mi dica dov'è! Sveglia, mi senti? Sveglia, mi senti? Sveglia, mi senti che questo posto fosse segreto, tanto chi ci viene qui? Batman! Sì, come no? Questo affare non dovrebbe essere impenetrabile E poi dalla morte di Joker pare che non lo si veda più Magari hai sensi di foglio È Batman! Dimmi come superare quella porta e non pensare di mentirmi Me ne accorgerei Oddio! Harley ha dato il codice alle persone di cui si fida Ti servono tre codici per entrare Ti prego, ti dirò dove sono ma... Hai... non farmi male! Farò del mio meglio Farò del mio meglio Farò del mio